Stai per iniziare un viaggio. Un viaggio nella memoria. Devi solo seguire la mia voce. Siamo chiusi? Lo so, scusate, è tardi. C'è tempo per un altro lavoro. Da quando l'acqua ha cominciato a salire ed è scoppiata la guerra. La nostalgia è uno stile di vita. Non c'era più un futuro da sognare. E la gente ha iniziato a guardarsi indietro. Niente crea più dipendenza del passato. No, 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 no! Mettimi giù! Mettimi giù! Ha voltato pagina. Dovresti farlo anche tu. Le persone non svaniscono nel nulla. Per scoprire dov'era, dovevo sapere dov'era stata. Scappava dal passato. O si precipitava a tornarci. Quanto la conoscevi veramente? Quanto hai scavato? Chi era quando non era con me? Tu vorresti delle risposte? Lascia stare. Lei dov'è? Dimmi dov'è! Incendi, corruzione e omicidi. La gente ama i propri segreti. Non seguire questa strada. Resta qui, in questa vita. Ho finto di non vedere tante cose. Devo farlo. Con quella tua macchina, quanto ti puoi avvicinare? Prima che si spezzi l'illusione. Stai per iniziare un viaggio. Devi solo seguire la mia voce. Oh! Ok. Si. Ho andassia. ριva.